Ok, sono tornato. Ascoltatemi ragazzi e ragazze giovani e meno giovani, statemi a sentire. In questo gioco della PS4 Marvel Spider-Man, visto che siamo nell'Upper West Side, facciamo l'avamposto Sable, una base nemica. Dobbiamo disarmare 5 nemici e poi dobbiamo lanciare 5 nemici con jetpack nel combattimento aereo. Non dobbiamo aspettare altro, perché io non sto più nella pelle. Ora già sapete chi sono, è inutile che ve lo spiego di nuovo. Ascoltatemi, dobbiamo affrontare gli agenti Sable, ma ci vuole del tempo per sconfiggerli, per questo il video si allungherà in maniera incredibile. Quando gli agenti Sable sono protetti da una corazza, ci vuole del tempo per eliminarli e sconfiggerli. Una volta sconfitti gli agenti Sable, andiamo a liberare i prigionieri. A me questi agenti Sable non mi piacciono, perché sono cattivi e poi stanno dalla parte di Silver Sable. Sapete chi è Silver Sable? Quella donna argentata. Ma Silver Sable la vedevo già nella PS3 nel gioco Spider-Man Shutter e Dimensions, se ve lo ricordate. E questi agenti Sable saranno il maggior numero, così tanti che forse non ce la farò a distruggerli e a farli fuori tutti. È impossibile eliminarli. Ve l'ho detto, sono protetti da una corazza e quando hanno la corazza sono fortissimi. Però, dopo averli picchiati tante volte, quando sono senza la loro corazza, vengono eliminati immediatamente. Ci sono anche quelli che sparano dall'alto, ma nessun problema. Premendo L1 più R1 io tolgo questa torre e cadono. Vediamo quante ondate, quando sconfiggi il maggior numero di nemici, ti dice quante ondate ci sono. Bene, seconda ondata. Ricordatevi che la prima ondata è stata fatta. Pensiamo alla seconda. Certo fare l'avamposto Sable è difficilissimo. Nessun giocatore è un mese mai uscito. Finora abbiamo sconfitto gli uomini di Fisk, i demoni e i detenuti evasi. Ma affrontare agenti Sable è una cosa difficilissima. Ma quando abbiamo la concentrazione carica bisogna premere triangolo più cerchio per farli fuori ed eliminarli anche se sono protetti da una corazza. Oh, attenzione! Anche questo non lo sapevo ragazzi. Gli agenti Sable arrivano anche con i loro jetpack. Ricordatevi che i puntini rossi sono i nemici, sono quelli che state vedendo sulla macqua. Quarta ondata. Quarta ondata. Questi che volano ogni jetpack io non li sopporto. Oh, devo stare attento perché quelli che volano col jetpack lanciano la frusta, lanciano la catena o qualcosa del genere. Sono sempre in tanti e io sono solo ad affrontarli. Ho capito. Invece di attaccare sempre da terra, vogliono fare i loro combattimenti aereo e ogni jetpack. Se siete stati presi da una catena degli agenti Sable col jetpack io vi consiglio di premere ripetutamente quadrato, così potete liberarvi più velocemente. Oh, l'ondata finale finalmente. E' il momento giusto questo ragazzi, ci siamo. L'ondata finale, sono vicinissimo. Dopo le cinque ondate andiamo di farla l'ondata finale. Nessuno può sconfiggere un Costa e nessuno può sconfiggere Spider-Man. Questa è musica per le mie orecchie. Spider-Man e Gabri Costa che sconfiggono i criminali e salvano New York. Ora vediamo se questi sono gli ultimi agenti Sable. Bene, andiamo a sistemare l'ultimo. Non ne arrivano più. E ora andiamo a liberare i prigionieri. Siete liberi? Bene, direi che il video si può concludere. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Di niente Yuri Watanabe. Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Fateci sapere cosa ne pensate del video nei commenti qui sotto. Così io cercherò sempre di rispondere a tutti.